Codeina a cosa serve? Precauzioni ed effetti collaterali. La codeina è un farmaco appartenente alla classe degli OPID, utilizzato principalmente per il trattamento del dolore da lieve a moderato e della tosse. Derivata dalla morfina, la codeina è meno potente, ma offre benefici significativi nel controllo del dolore e della tosse. A cosa serve la codeina? Trattamento del dolore. La codeina è spesso prescritta per il trattamento del dolore da lieve a moderato, come quello post-operatorio o il dolore causato da lesioni. Agisce sul sistema nervoso centrale per alterare la percezione del dolore e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Alleviamento della tosse. Un'altra indicazione comune per la codeina è il trattamento della tosse. Viene utilizzata in diversi sciroppi per la tosse, di che può ridurre la frequenza e l'intensità della tosse, offrendo sollievo a chi soffre di condizioni respiratorie. Come agisce la codeina? La codeina agisce legandosi ai recettori degli opi-idi nel cervello e nel midollo spinale. Questo legame altera la trasmissione dei segnali del dolore e sopprime il riflesso della tosse. Essendo un profarmaco, una parte della codeina viene metabolizzata nel fegato trasformandosi in morfina, che è la principale responsabile degli effetti analgesici. Controindicazioni e effetti collaterali della codeina La codeina non è adatta a tutti i pazienti. È controindicata in individui con allergie agli opi-idi, in persone con insufficienza respiratoria grave, e in bambini sotto i 12 anni a causa del rischio di gravi effetti collaterali respiratori. Effetti collaterali L'uso di codeina può comportare diversi effetti collaterali. Tra i più comuni si includono Sonnolenza Costipazione Nausea e vomito Vertigini Uso a lungo termine L'uso prolungato di codeina può portare a tolleranza e dipendenza. È fondamentale che i pazienti seguano le indicazioni del medico e non assumano il farmaco per periodi, prolungati senza supervisione. Interazioni con altri farmaci La codeina può interagire con altri farmaci, come antidepressivi, antistaminici e altri analgesici. È importante informare il medico di tutti i farmaci in uso per evitare interazioni pericolose. La codeina è un farmaco efficace per il trattamento del dolore e della tosse, ma richiede un uso attento e sotto controllo medico. Conoscere le sue indicazioni, modalità d'azione e potenziali rischi è fondamentale per un utilizzo sicuro e responsabile. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie 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 Grazie